Le nostre materie prime strategiche sono sempre in contratti quadro, quindi i contratti finora sono stati rispettati e stiamo portandoli avanti. Diventa sempre più importante gestire bene la supply chain perché un conto è acquistare all'interno del contratto, un conto è fare acquisti spot per imprevisti o altro. Quindi abbiamo puntato molto anche sul miglioramento della supply chain, della capacità di forecast e di planning per essere sempre più precisi nell'ordinaria materie prime per tempo e ai fornitori giusti rimanendo all'interno dei contratti quadro. Questa è la chiave sulla reperibilità delle materie prime, è stato chiave per noi. In generale sulla parte costi, che è uno degli argomenti della serata, Lenora ha puntato moltissimo sulla trasformazione Lean in tutti i suoi 13 stabilimenti produttivi. Abbiamo iniziato implementando il 5S, il show floor management, il TPM con risultati molto importanti soprattutto su qualità e overall keeping efficiency che ci hanno permesso delle riduzioni di costi davvero interessanti. Sulla gestione energetica abbiamo qualche stabilimento che è certificato per la gestione energetica. Abbiamo fatto il primo report ISG quest'anno, quindi per il 2001 e il prossimo, quello del 2022, lo certificheremo e avremo a partire dal 2023 dei piani di miglioramento, di riduzione dei consumi energetici, soprattutto energia elettrica. Noi abbiamo dei forni che sono una parte fondamentale del nostro processo produttivo e spesso sono forni elettrici, non a gas, quindi lavoreremo molto sul miglioramento dei forni, quindi della diminuzione di spessione termica, diminuzione del tempo di utilizzo anche migliorando i cicli di produzione e poi lavoreremo molto sulla riduzione dei rifiuti in generale in tutti gli stabilimenti, è una cosa abbastanza facile. Poi il business di nuova di suo è un business di recupero perché i nostri elettrodi che sono i nostri prodotti vengono venduti ai clienti e poi dopo, in dipendenza dal business tra due e otto anni, tornano indietro e non vengono buttati via, viene fatta manutenzione e rimandato. Così come i metalli nobili che vengono applicati sugli elettrodi si recuperano quasi totalmente. Quindi dal punto di vista dell'impatto delle materie prime più importanti nel ciclo produttivo è già un impatto quasi zero, ci concentreremo sui rifiuti che vengono dalle lavorazioni. Il target è continuare a lavorare su una strategia dell'operation, quindi continuare le azioni di miglioramento continuo che abbiamo su costi, su lead time, su efficienza di utilizzo dei metalli nobili e poi riuscire a fare il nostro business plan dei prossimi cinque anni che prevede più che un raddoppio della produzione e quindi a questo punto i costi totali cresceranno ma i costi unitari scenderanno moltissimo e questo ci permetterà di essere competitivi ancora più di quanto siamo ora.